Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Ma adesso non sentite anche voi proprio il forte, forte, forte bisogno di un sindaco, proprio nel senso buono. Siamo fortunati perché per premiare la prossima leggenda acquatica invito qui sul palco niente meno che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Buonasera sindaco. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Ma anche buonasera. Anche buonasera. Allora, per la prima volta Napoli ospita i Gazzetta Sports Awards. È citato alla sola idea o vuole darmi una risposta falsa? No, ti dico che a noi ci farebbe veramente molto piacere che lo sport si festeggia a Napoli perché quest'anno Napoli ha vinto lo scudetto e quindi l'abbiamo festeggiato. Penso che hai saputo di questa notizia. Lei ha festeggiato per le strade? Ho festeggiato tantissimo. Quindi abbiamo anche, ci siamo anche preoccupati per far festeggiare gli altri perché è stata una grande festa e poi anche perché Napoli è una città dello sport dove non c'è solo il calcio che ha avuto un grande successo grazie a un grande presidente, a una grande squadra, un grande allenatore ma è anche una città di tanti altri sport olimpici, del nuoto, dell'atletica, della pallannuoto. Abbiamo tante medaglie d'oro. Palla a canestro. Palla a canestro che adesso sta andando molto bene. È una città dello sport, è una città che ama lo sport. Lei quale sport ama di più? Guarda, io ho amato sicuramente il calcio, il basket che ho giocato un po' quando ero più giovane e poi a me quello che mi veramente fa molto piacere è anche vedere i tanti ragazzi che praticano lo sport perché per loro è un'occasione non solo di felicità ma spesso per uscire da una realtà difficile. Ecco mi raccomando, dia una mano a Cannavaro che si occupa di questa, sicuramente siete già in connessione. Siamo lavorando insieme, quando siamo andati insieme al centro paradiso ci volevano far pulire ma era un po' difficile pulire perché diciamo dopo tanti anni di abbandono però l'idea di Fabio e anche di altri di avere tanti campi per i ragazzi, tanti campetti per i giovani delle nostre periferie è una cosa veramente importante. Complimenti Sindaco e ancora complimenti Fabio, allora passiamo a premiare un'altra leggenda, un grandissimo figlio di questa meravigliosa città, la leggenda del nuoto Massimiliano Rosolino. Ciao Massimiliano. Ho quasi paura a toccarti. Eh lo so, non sei il primo. Ciao Sindaco, ciao. Prego la foto. È vero, finalmente, meraviglioso. Col Sindaco, campione olimpico. Questo per noi i colori sono perfetti perché comunque c'è un black ever black, insomma if you go black you don't go back e poi ci sono i simboli. Sei pazzo. Perché l'hai detto, scusa. No, guarda Danello. Ci sono tre colori che sembrano argento, oro e bronzo, in verità sono tre ori diversi immagino, però insomma io lo identifico così. Sto zitto. No, no, stai andando benissimo, sei un televenditore. Allora è anche una bicicletta con cambio Shimano se prendete questo anello, sarà contento Giorgio. Vuoi dire qualcos'altro di imbarazzante al Sindaco della tua città o no? No, niente, che io mi auguro e sono più napoletano di quanto non lo fossi quando ho vinto, questa è la realtà. Quindi anche se uno cambia blocchetto, quindi significa si allontana da casa per varie ragioni, io sono estremamente fiero. Sono fiero del Napoli anche quando non vinceva. Sono fiero di essere italiano anche quando gli altri non ci riconoscono. Quindi penso adesso che siamo in auge in diversi sport dove abbiamo degli alfieri, abbiamo tante, diciamo, ci vogliono bene. Però Napoli ha un potenziale che va ben oltre e quindi io vorrei che anche il tifoso, colui che va allo stadio, potesse diventare protagonista nella loro vita. Non vivere soltanto dell'effetto pop star di tifoso, ma muovere le gambe. Perché noi pensiamo spesso a promuovere lo sport per i giovani, per chi deve diventare un campione. Invece uno deve incentivare le persone a muoversi, ti dà una mossa, così ci stai meglio. Che timido che sei. Allora, campione olimpico, è un fiume del resto, è una vita che sto zitto sotto all'acqua. Ma infatti come si fa? Perché tu non parli mai. Lo so, infatti non ero bravo a fare le apnee, forse per questo. Perché parlavi? Chissà quanto avresti potuto vincere ancora di più? Ma Geppi, non è che si vuole prendere il tuo posto qua? Cercavi di parlare, capito? Facciamo questo. Beh, però è portatissimo, è vero, sindaco? Stia tranquillo, nessuno vuole prendere il suo, guardi. No, no, su questo sono sicuro. Ma chi te lo fa fare? No, però quello che ha detto Massimiliano è giusto. Io penso che lo sport, e qua lo tocchiamo con mano, non è solamente il grande sport di Maradona, dei grandi campioni, dei grandi campioni di Massimiliano, di Fabio. E anche lo sport dei tanti ragazzi che trovano l'occasione di fare sport per stare insieme, per uscire da casa e per vivere un momento di socialità positiva. Penso che questo è un messaggio molto bello, Napoli. È la città dello stare insieme. E anche nello sport stare insieme, tifare, ma stando insieme, è un messaggio molto importante che pensano tutti noi dobbiamo lanciare. Grazie, grazie Sindaco Maffredi, grazie mille. Grazie, grazie mille. Allora, ascoltami Massimiliano, mi chiedevo, quando ci smette di fare di sportività da questi alti livelli, come ti mantieni in forma? Allora, la realtà è che c'è sempre di mezzo lo sport, c'è poco da fare. Sei finito nel spire del... Sì, insomma, è così, anche se io lo prendo come sfida, perché io quando ero piccolino, che avevo dieci anni, ti dico la verità, che spesso mi dicevano, ero anche un po' un robustello, e mi dicevano sempre, ma sei più forte perché sei più alto degli altri, questo era un po' vero, sei più forte perché c'è la mamma australiana, lo sai che ho la mamma australiana io? Good day. Yeah, you know where she from? She's from Melbourne. She's good. Anyway, comunque... C'è tua mamma qua. E quindi fondamentalmente, io per una vita mi sono sentito di dire, anche quando ho vinto, tanto poi devo fare 100 kg, tanto poi diventi vecchio, perdi i capelli, ti fai 100 kg. Io l'ho presa un po' come sfida questa cosa, perché io tendo a ingrassare, non è che mi hanno regalato il dono di performare senza fare fatica, quindi io amo la fatica, l'ho amata, e anche adesso non esiste una giornata senza sport, una giornata senza sport per me è una giornata senza sorriso. Quindi mi tengo in forma, corro, faccio le maratone, eh lo so, faccio ridere... No, in realtà, grazie per l'applauso, ma io ho il piacere di far ridere le persone quando corro, perché è vero... Corri male. Sì, sono abbastanza un bufalo quando corro, però ho fatto la mia prima maratona quest'anno, ho fatto il mio personale sulla mezza maratona qualche settimana fa, il piacere di potersi confrontare ancora con il cronometro, con quello spirito da campione, ma sentendo di una persona normale, perché chi diventa bravo è normale, soltanto che pensa in grande. Ma tu vuoi arrivare prima anche con la maratona? No, secondo me se andavo a nuoto facevo prima anche di corse, tanto perché sono lento. Quante è il tuo record sulla mezza? Sulla mezza 1,33 che non è male. Non è male. Sulla maratona ci sono 4 ore, 4 ore stavo per morire, però ci riproverò, non lo sono segnato. Comunque, infatti, quello che tu dici conferma questa cosa, ti prodighi da anni per divulgare ai più giovani l'importanza dello sport nella vita, e proprio per l'occasione, so che ti vuoi rivolgere proprio ai più giovani, anche ai futuri uomini. Sì, mi sento di dire, lo sport a me mi ha dato una cosa, non capire che c'erano delle regole scritte, ma c'è un buon senso. Quindi si può sbagliare, ma ci si può rifare, e soprattutto si può evitare di cadere nell'errore del tranello della scorciatoia. Quindi questa è la realtà, io grazie alla mia famiglia sono diventato una persona migliore. Proprio ieri c'è un piccolo aneddoto fresco fresco, due ragazzi che io insegno a nuotare, perché insegno a nuotare non è che faccio il VIP in giro, due ragazzi di cui uno era straniero e uno italiano, solitamente si prendono un po' sempre in giro, qualche botta sott'acqua, insomma lasciamo correre. Ieri hanno litigato in uno spogliatoio, e quindi appunto perché ci tengo al non contatto fisico, uomo o donno, ma insomma in generale, perché la campagna mia è proprio in generale, bisogna evitare il contatto ingiustificato, ma anche quello giustificato non mi piace. Ho preso questi due ragazzi in uno spogliatoio e ho detto, what are you doing? diciamo all'inglese, e l'altro che stai facendo, perché lo capisci il napoletano. Ho fatto, non perdete tempo, andate a sfogare la vostra forza in acqua. Lo straniero che assolutamente è sempre stato un po' restio ad impegnarsi, ieri sera mi ha dato una bella soddisfazione da allenatore, ma allenatore è veramente di due ragazzi semplici. Hanno finito l'allenamento, hanno dato il massimo, thanks coach. A fine serata, quel thanks coach è stato un modo per mettere pace, grazie, diciamo, all'energia dello sport. Questo vuol dire che le persone che sono a casa, in questo caso, questo è un periodo un po' particolare per tutti, però ovviamente, sappiamo benissimo che ci sono state alcune vicende sfavorevoli, come da sempre, per le donne, ma la mia campagna è quella di dire, usate le vostre energie diversamente, e soprattutto quando vedete una persona che anche se non conoscete, rimproveratela con affetto, questo che mi sento di dire forse è... Lo sport sicuramente aiuta a gestire le nostre emozioni. Questo aiuta, perché spesso noi abbiamo persone vicino a casa che non diamo sostegno, invece persone che magari non conosciamo facciamo bene il contrario. Io dal genitore spero di poter essere in futuro un buon esempio come sempre. Sei stato un ottimo sportivo, sono certa che sei un coach straordinario. Massimiliano Rosolino, bello e bravo, così di solito lo dicono le donne, volevo vendicarmi. Grazie. Ciao. Grazie, grazie mille.